Sì, ho mangiato bene? Bene, bene. Adesso dobbiamo pagare il conto però. Come ci siamo ridotti in questa situazione? Dove stiamo andando? È un'ascensione da tre minuti. Siamo dentro l'Osservatorio Giulio Verne, panoramico. Siamo qui a Zulico alla Street Food Festival. Eh, è un posto pazzesco. Questo spiazzo dove ci sono tutti i carrucci dello street food di ogni genere, paesi. E niente, dobbiamo solo trovare dove mangiare. I miei amici che sono là a mangiare il Himalaya Hamburger. Il Himalaya, che non so che cos'è. Fanno anche la fondue o street food. Sembra che non ci sia tanta gente. Uno perché è molto grande. E due perché a quest'ora gli svizzeri stanno già a dormire. Perché hanno mangiato alle sei. Ho rubato le bolette dalla chiesa. Ma dove stiamo finiti? Shhh. Oltre, la cantante cominciò ad arraparmi. Comunque canto meglio io. E si dispregiare che in un altro non ho gente. Quanto è che stava qua? 63. 20. 5. E sono altre 20. Scusi. No problem. Anni. 3, 4, 5, 6, 7. Devo rivedere la registrazione. Ho perso il conto. 6, 7, 8, 9, 10. Sono 62. Come due? Come può essere due? Cazzo. 63. Prego signorina. Prego signorina tutta lei. Comunque ricapita l'anno. 63 franche. Usate Hamburger. Vabbè però ci ho andato a lecca-lecca. Papa Joe's. Leccate il resto. Bene. Anche sta figura di merda la giova faccia. E un caffè autofrana.